Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video di Animal Crossing Oggi andiamo a festeggiare insieme l'evento del primo maggio su Animal Crossing Ora vediamo un attimino come sbloccare i biglietti, eccetera E sono curiosissima di provare l'evento insieme a voi Tutti coloro che ci verranno a trovare al centro servizi potranno informarsi sui nostri coupon primo maggio Quindi il primo coupon viene regalato da Tom Nook Ovviamente come il primo coupon in assoluto, mi sembra che ce l'ha regalato anche lui La Nook le sta distribuendo in segno di apprezzamento verso la nostra piccola comunità isolana Farete un viaggio in un'isola lontana per godervi un po' di pace e di sano riposo Ok, per il momento è tutto, sono curiosissima di provare questo nuovo evento Dai amico, sborsa il ticket Bene bene Lightning, scommetto che sei qui per ritirare il tuo coupon primo maggio Hai indovinato Ho qui per te un piccolo quiz Sai che cosa si festeggia il primo maggio? Certo che lo so Non mi sorprende Conoscendoti sei un vero pozzo di scienza tu Sì sì Quindi come sai il primo maggio è un giorno per esprimere gratitudine verso tutti coloro che lavorano Perché magari, per chi non lo sa, il primo maggio è la festa dei lavoratori Ma perché con tanto spazio sempre in mezzo? Ok raga, eccoci qua al nostro labirinto Allora, prima di tutto iniziamo con la pala Dovete cercare di utilizzare il meno possibile gli strumenti per evitare che si rompono subito E soprattutto cercate di pensare bene perché la frutta è importante Soprattutto per sbloccare una parte dove ci sono diciamo le ricompense Quindi dobbiamo stare attenti e capire dove possiamo utilizzarla Cioè dove dobbiamo per forza utilizzare la frutta e dove non è obbligatoria Ok, allora, iniziamo da qua perché è l'unica cosa che possiamo fare Quindi leviamo il cespuglio Prendiamo la frutta, in questo caso la pesca Ok, e posso mangiarla Se mangiate la frutta oltre i sassi potete anche levare gli alveri così come ho fatto io adesso Ok, quindi devo andare per forza così Perché se vado di qua non prendo questo Allora, se vado qui E poi faccio così, prendo la legna Ok Qui torno al punto di partenza Non ho ancora frutta Allora, devo per forza Allora, devo per forza Fare così Se faccio così che succede Nulla, ok Allora, andiamo di qua Dobbiamo cambiare un attimino zona Ok, qui ho trovato un altro ramo E Così posso prendere i rami Abbiamo trovato un'ascia Ok, l'ascia consumata che trovate nel labirinto ha solo tre colpi Quindi dovete trovare, dovete usarla solo per tagliare l'albero necessario per farvi avere gli oggetti per proseguire nel labirinto Allora, noi continuiamo a raccogliere i nostri rami Ok Abbiamo frutta Ancora non ho frutta Quindi Guardando un attimo L'unica zona che mi dà La frutta E i rami È questa Quindi lasciala, devo per forza utilizzare qui Ok, infatti si è rotta Ascia consumata È normale Ok, abbiamo ramo E le due pesche Che ci servono per rompere il sasso E sbloccare i progetti fai da te Per creare un'altra ascia Torniamo indietro Andiamo sempre da questa parte Eh no, devo fare Devo fare il giro Devo fare il giro Quindi andiamo di qua Mangiamo la frutta Rompiamo il sasso E prendiamo un'altra frutta Abbiamo il progetto Ascia fragile Qui per forza Perché non ho l'ascia Quindi per forza devo mangiare La frutta Cercate di risparmiare le risorse Se non è necessario Qui era necessario Come nella zona di prima Perché non potevamo fare Altro Ah no, no Mi manca Mi manca il Mi manca il ferro Raga Mi manca proprio il ferro Per creare L'altra ascia Oh, i pezzi di legno E rami Mi manca il ferro Allora, dobbiamo prendere il ferro Ok Allora, andiamo un attimo Da questa zona E qui devo per forza Mangiare nuovamente la frutta Oppure 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 no Oppure no Attenzione Attenzione Pensiamo bene No, no, no Forse Ah no Ok, ok Ci sono, ci sono Ci sono Allora Dobbiamo fare il giro Di nuovo Ho capito come prendere il minerale Senza consumare Frutta Allora Andiamo qui Ok Giriamo E qui c'è il nostro Sasso Perfetto Ok Adesso torniamo indietro Non tocco l'albero Anche perché non ho più frutta E dobbiamo andare a creare Il progetto Fai da te Dell'ascia Ok Ok, di qua Sì Ok, cremo l'ascia Crea qualcos'altro Così facciamo L'ascia normale E possiamo tagliare Gli alberi Allora No, ho sbagliato strada Devo fare l'altra strada Ogni volta Va bene Allora Innanzitutto tagliamo Questo Quest'albero Perché l'ascia Non dovrebbe rompersi subito Un'ascia normale Non è consumata Ok Ci sediamo Prendiamo Vedete Io non uso la pala Se non è necessario Utilizzarla Quindi ho preso La frutta Da questo lato Ora Ora Devo Cambiare un attimo Strada Andare da questo lato Di nuovo Sì Prendiamo Da quest'altra parte E arriviamo Qui Dove c'è l'albero Ok Ho tre Frutte Tre frutte Ok Ho tre pesche Speriamo che non si rompa L'ascia Per se no Siamo fregati Non posso utilizzare Le pesche Perché dove ci sono I ticket Dall'altra parte Ci sono tre rocce E quindi Facendo il conto Della frutta Che c'è sull'isola Dobbiamo ottimizzare Le risorse Ok Credo che ce l'abbiamo Fatta Allora Prima di tutto Facciamo una cosa Prendiamo la nostra Pala Dobbiamo Levar i cespugli Eccoci qua Mangiamo la frutta Secondo me Dovevano mettere Tipo una boss C'è l'opzione Di farti scegliere Quanta roba mangiare Cioè Così invece Uno a uno Allora Uno Due E tre Ben Cinque ticket Stelline Ok raga Adesso parliamo Con il tizio E Abbiamo completato Il labirinto In pochissimo tempo Penso di averci impiegato Circa cinque minuti Cirolamo Ce l'hai fatta Eh Ehi Ci conosciamo Il tuo volto Mi è familiare Ma Oh scusa Ho visitato un sacco Di isole ultimamente E i nomi e le facce Non sono il mio forte È la prima volta Che vengo su quest'isola È un po' strana E comunque Cosa ti porta qui Un attimo Conosci Tom Nook E il motivo Per cui sono qui Voglio dire Sono qui Perché mi ha invitato lui Mi ha detto Che aveva realizzato Un'attrazione Molto interessante Su quest'isola E di venire A vederla Ma non mi aspettavo Di trovare Un labirinto Che sorpresa Dunque Se conosci Tom Significa Che vivi Sulla sua stessa isola Certamente Ho sentito Che Nook Si è impegnato Come un vero Procione Operoso Per quell'isola Com'è che si chiamava Ah si Lighty Way Giusto Ok Ci da un regalo Vediamo che cosa ci da Sono felice Di averti conosciuto Abbiamo trovato Una valigia Di Girolamo Non la posso posizionare Vero no Vi do Una brutta notizia Perché Anche io Inizialmente Pensavo Si potessero Acquistare Più biglietti Per il primo maggio E fare più labirinti In realtà No raga Il biglietto È solo uno Sarà solo Una testa Anche tornando indietro Non potrete avere Più biglietti E Vi sarà possibile Utilizzare questo biglietto Dal primo maggio Al 7 maggio Ovviamente Chi non potrà giocare Oggi Potrà giocare Fino al 7 maggio Peccato Perché Era molto carino Se avrebbero creato Dei ticket In diverse isole Con i labirinti Sarebbe stata Veramente Una figata Pazzesca Comunque Detto questo A me è piaciuto Fatemi sapere Nei commenti Se anche a voi È piaciuto E quanto E quanto tempo Avete impiegato A fare il labirinto Se questo video Vi è stato utile Vi invito sempre A lasciare un like A iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi